Un saluto a tutti voi e benvenuti al nostro appuntamento del venerdì sera ovvero il convoio. Quest'oggi andremo come al nostro solito, andremo a fare un po' di aggetti, un bel po' di carichi, o meglio, uno. Mentre invece per chi guarda il martedì, la live del martedì, solitamente con il turbostar faccio molto più tappe. Hi everyone, welcome to the stream, welcome to Wednesday, stream. Today we will go on with our transporting, with our transporting, transport mission. So, we will have a lot of things to do, and it should be very very hard for for making this. So, just a moment, and down. Okay, here we are. So, we will do a very hard mission. Mission impossible. So, now we are ready to go. Chat voi ci siete? Mi approfitto per... un tanto vi saluto. Thank you. Just one drink. And then, let's go. Andiamo. Andiamo. Grazie a tutti Relax Il soft gaming lo trovi solo sul canale di Dapp Logistica 1 Il soft gaming lo trovi solo sul canale di Dapp Logistica 1 Relax E allora su let's go Se vi va ovviamente Se avete Facebook vi consiglio di iscrivervi sui canali amici di Facebook Che sono l'angolo dei simulatori Grazie mille e benvenuti a tutti Grazie per il raid E dicevo Se avete un account Facebook Di passare nei canali Eh perdon 1RGK539 ha effettuato un raid 1 Raiders entrati nello stream Benvenuti Grazie mille e benvenuti a tutti Grazie per il raid E dicevo Se vi va iscrivetevi nei gruppi Facebook Che sono l'angolo dei simulatori E la Dunkey Transport SRL Fabrizio Dapp 2 Fabrizio Dapp 2 ha effettuato un raid 1 Raiders entrati nello stream Benvenuti Grazie mille per il raid Benvenuti a tutti Thank you for the raid So If you If you want to If you like Please If you have A Facebook account Please Join the group L'angolo dei simulatori And Dunkey Transport SRL You will find The Logos Down here Many thanks So Now S'il vous plaît Si vous avez Un account Facebook Si vous pouvez S'il vous plaît Escrivez-vous Au groupe L'angolo dei simulatori E la Dunkey Transport SRL Allora Andiamo un po' I always prefer Short Short trailer Preferisco sempre Prendere I rimorchi Più corti Ho saluto Posizione Prendere Andiamo Po Andiamo Prendere Per chi guarda questo video da YouTube. Tutti i venerdì. In live su Twitch con il format del soft gaming che riguarda il convello del venerdì. Per chi guarda questo video da YouTube. Per chi guarda questo video da YouTube. Per chi guarda questo video da YouTube. Per chi guarda questo video da Twitch. Per chi guarda questo video da YouTube. 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 Adesso andiamo. Dobbiamo fare 540 chilometri. Volendo si può fare anche un'altra bella trasferta. Per chi guarda questo video da YouTube. Per chi guarda questo video da YouTube. Per chi guarda questo video da YouTube. E' un'altra bella trasferta. In porto 3 route, io guido l'apecarra, I drive the 3 wheel home. Se avete bisogno di qualche piccolo suggerimento scrivetelo pure in chat. If you need any help or other things like this you can type in chat and if you are watching this video on youtube, please leave a comment and take a like. E ovviamente per chi guarda il video da youtube mi raccomando bel pollicione in su. E adesso proseguiamo. And now let's go on. And now let's go. And now let's go. Oh oh Sì, sì. in porto trail route porto trail route rabbiage i try the tree wheels tickle tickle semaforo rosso traffic light right andiamo avanti direzione varsavia e e e Tico, 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 taco e pueden achtergrir Grazie a tutti. Grazie. 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 Poland. Grazie. 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 Bisogna prestare molta attenzione su queste strade perché ci sono gli auto enox. e la miglior cosa è quella di rispettare sempre gli auto enox. e la miglior cosa è quella di rispettare sempre gli auto enox. per il codice della strada. Quindi la miglior cosa è rispettare i codi di ruota. i codi di ruota è il codice della strada. Grazie. meno male dai che ci siete ancora questo è blu Grazie a tutti. 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 Polonia, now we are right in Poland. Il vero soft gaming è solo sul canale da Brogystick. The real soft gaming is only on that logistic channel. Grazie a tutti. The beat is only on that logistic. This is one, one, two, three, four, one, two, four, one, two, four, one, two, three. I tried a free wheel. Otra, okay? Otro, rota, otra, rota, la piace. Grazie. Un saluto a tutti gli amici autotrasportatori. I want to say hello to the trackers. My utmost respect, respecto. Un saluto a tutti gli amici autotrasportatori. Un saluto a tutti gli amici autotrasportatori. Stiamo entrando in un centro abitato. Un saluto a tutti gli amici autotrasportatori. 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 Allora, devo essere sincero, era tanto che non prendevo uno scania, ma questo qui è fantastico. Questo è stato un po' molto diverso. che non ho usato Scania Tractor ETS2 è una buona traccia è una buona traccia La traccia ha 580 HP con un consiglio di un amico che è un potente un traccia un traccia non è un gioco quindi non è molto realistico sorry for my lapsus e per questo ho fatto la scuola per il 580 HP questo è un nuovo Scania Dicevo che grazie al consiglio prezioso di un amico che diceva che non c'è molto divertimento ad avere un camion particolarmente potente soprattutto come diceva e dice il grandissimo amico Antonio che saluto dice che la motrice non deve essere eccessivamente potente anche perché non c'è gusto nel tirare un qualcosa o fare un viaggio senza scalare marce o cose del genere quindi grande Antonio non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è che o 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 Adrizia eri la reginetta di tutta la baia Domizia o o o o o o o Pupurum, pupurum Pupurum, pupurum Pum, pino dirum Pum, pino dirum Pum, dirum andrea 80 biella ha effettuato un ride uno raiders entrati nello stream benvenuti ui dottore carissimo buonasera e grazie per il ride e qua stasera come sempre siamo con una piccola bestiolina da 580 cavalli bella vero grazie buonasera buonanotte a tutti il soft gaming è solo su dub logistica ti è piaciuto lo spot pubblicitario qua è il camion sta top io al massimo posso essere un top top gun magari ogni tanto qua mi faccio pure una bella trasferta in solitaria e approfitto ma sorseggio un po d'acqua questo un po di integratori di sani i sali minerali perché qua quando si suda si suda bene come si dice o si suda bene ma io non sudarevo io sono così quando sudo sudo bene insomma mi accalda ecco ma anche perché comunque la temperatura è scesa qua a napoli ci saranno all'incirca in tutto gradi più o meno quindi accalata notevolmente rispetto gli altri giorni qui abbiamo scoperto anche un bel concessionario mercedes ma io faccio una bella strombazzata con il con lo scan stasera non sei live stasera non sei live stasera non sei live stasera riposo ottimo quello in questo periodo bisogna bere tanta acqua bere ma preferibilmente acqua ecco soprattutto quando si ha la guida a massimo gli integratori facciamo ogni tanto a me piace anche fare un po di campagna di sensibilizzazione per la come dire la sensibilizzazione sul anche nel per la vita reale sull'uso dell'auto insomma ogni tanto mi viene da fare queste cose qua ogni tanto mi parte quella quella via un po da vecchio ma diciamo così da zio e mi viene da da fare sempre ogni tanto ste campagne di sensibilizzazione per quanto riguarda l'uso di bevande che alterano i riflessi ottimo ottimo o vedo che hai sbloccato le icone del dello scan bella simpatica devi sapere che per il momento tutte le icone del canale sono foto durante dei gameplay che ho fatto e le ho rimpicciolite e le ho rese icone allora io vorrei andare in germania a duisburg vediamo un po' allora sono mille chilometri questo va a duisburg quasi quasi dove voglio che vada allora a stoccarta oppure a duisburg a te la scelta dottore guardi a questo momento mi trovo a dove che mi trovo a varsavia se vieni ci facciamo un viaggetto insieme dai ci sono i new s simulation e questo qui attualmente risulta quello lì un po' più stabile per questo che vengo sempre su questo server qua sono quasi sempre qua ma tu sei online in questo momento se mi dici il server la città dove sei cerco di raggiungerti il sostegno è un po' più se non 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 Grazie a tutti. Ok, perfetto, ti aspetto. E nel frattempo direi di fare qualche foto al grande mezzo. I always use. A little bit of saturation on photography. That gives them a kind of effect so similar to HDR. High dynamic range. Dynamic range. Eccolo. Eccolo il grande dottore. Buonasera. Willa, Presidentissimo, buonasera. È un grande onore questa sera viaggiare insieme a te. Eccolo. Riprendiamo quando entra alla grandissima. Ho fatto una bella ripresa panoramica quando sei arrivato. Ho fatto una bella ripresa panoramica quando sei entrato. Infatti poi la vedrai magari se ti affaccerai a vedere un pochettino lo spezzone della live. Ok, io pensavo di andare in Germania. Se tu trovi qualche destinazione fammi sapere che io con un virtual transport vi faccio il viaggio personalizzato. Fammi sapere cosa trovi per la Germania perché così io con il virtual expeditor mi creo un viaggio ad hoc. Andiamo pure a Mannheim, tanto non ho trovato niente, lo faccio a mano io. Ok, allora andiamo a Mannheim. Yeah, wunderbar. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho scelto un carico di balle di paglia. In stile farming. Ho scelto un carico di paglia. Ho scelto un carico di paglia. Ho scelto un carico di balu. Mailah. Maio è ilさん del partito. Allora mi hai letto nel pensiero Eh sì, anche perché è un carico che non ho mai trasportato su Aerotrack, nemmeno su American Truck quindi è una novità per me Allora Proviamo Schwarzmüller Schwarzmüller Io mi carico un bello Schwarzmüller come si dice in tedesco Schwarzmüller Vai presidentissimo A te l'onore di aprire le danze E soprattutto la strombazzata di benvenuto ci vuole sempre L'hai ricevuto quindi sei entrato ufficialmente Nella storia In questo momento siamo in compagnia con l'amico Andrea 80 Biella Mi raccomando seguite il suo canale E in questo momento siamo live con il mio amico Andrea 80 Biella Per favore di seguire il canale su Twitch Grazie, grazie, grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. E noi continuiamo sempre in compagnia dell'amico Andrea Biella. Andrea 80 Biella, please follow my friend, Andrea 80 Biella. Oh yeah. 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 looking. Andrea 80 Biella. Andrea 80 Biella. You can read the down in the multiplayer screen. ottima la scelta del trattore io in realtà credevo di trasportare le balle su un cassone aperto mentre invece questo il cassone è chiuso mi hanno fregato deve esserci una mod per le balle con il cassone aperto vabbè tanto era una curiosità alla fine la mia perché tutto sommato ha fatto devo aver trasportato quasi tutti i tipi di merce su eurotrack dovrei controllare un po i vecchi video comunque più o meno quasi tutti i trasporti ho fatto soprattutto i carichi eccezionali è stata veramente dura 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 eccezionali è un po' in questo momento stiamo andando in direzione ma nai ma nai con l'amico andrea biela altri andrea 80 biela eccezionali è un po' 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 eccezionali è un ho dato un'occhiata ai requisiti consigliati su Farming 22. La scheda consigliata è la 1060 quindi quindi immagino che avrà una grafica molto pesante. 1060. I read on Minimum Specs for running Farming Simulator 22 and I read that the minimal specs for the graphic card is a 1060 6 gigs of RAM 760. I would like that to be a.. I would like to just have a graphic rendering. Rain Ring Tu lo usi il tasto del ripristino del cruise? Sì Il tasto quello tu dici per risettare i chilometri? No, quello per ripartire col cruise alla velocità che avevi impostato prima Ah, lo sai che non non ero a conoscenza di questo di questo comando ero rimasto a quello che solitamente una volta arrivato a 30 km orari inserisco il cruise control e poi con i pulsanti per aumentare o decelerare o ridurre la velocità, utilizzo quelli lì quindi non utilizzo più il pedale dell'acceleratore Con il ripristino del cruise tu riporti praticamente prima andavamo a 90 km poi freni fai il casello un esempio e poi col tasto del ripristino ritorni a 90 km e tu vai a 30 km poi schiacci il il tasto del ripristino e ti riporta a 90 km caspito caspito buona sapissima magari quando termino la live io vado a vedere un po' dove sta questo pulsante perché è comodo almeno sai più o meno che non puoi impostare una velocità diciamo quasi di defu ottimo comunque grazie per il consiglio e l'ho detto che prima quando non ho parlato a cb ho fatto un po' di sponsor un po' di pubblicità anche al tuo canale sia agli amici italiani che diciamo agli amici non italiani e quindi grazie per la dritta grazie c'è sempre da imparare su questo gioco effettivamente nonostante siano quasi 12 anni dalla sua uscita insomma c'è effettivamente c'è veramente 12 anni scusami 10 anni dalla sua uscita c'è sempre da imparare è vero c'è sempre da imparare c'è sempre da imparare la sua uscita va a imparare 1 eu ovo modi 1 0 5 6 8 8 9 9 11 10 E qui noi continuiamo il nostro viaggio verso Mannheim e il nostro viaggio è continuato. Destinazione Mannheim, Germania, Mannheim, Germania, Mannheim aus Deutschland, in Deutschland. Grazie a tutti. Amici mi raccomando seguite anche i canali amici di Barba Bianca. Renegade 82, l'amico Marco, Ferbus08. Quello di Andrea Biella, dei gire, 9 gire, la zappa storta, mi sa che stasera le sto nominando quasi tutti. Vediamo un po'. Ho tralasciato qualcun altro, la zappa storta l'ho detto e chiedo scusa agli altri amici se non vi ho nominati ma... vi penso a tutti quanti. L'esercizio del casellano. e scappando cioè... Grazie. 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 Ottimo. Faccio una bella strombazzata qua. Andrea, ma tu l'hai già provato, il Turbo Star, quello Lady Ruff Garage? Certo. Guarda che se potessi lo porterei nel multiplayer. Se mi dicessero guarda ti metto a disposizione una mod soltanto per circolare nel multiplayer, quale vorresti dire il Turbo Star, quello di Ruff Garage, ma proprio ad occhi chiusi. Dovrebbero creare una sezione camion vintage. Effettivamente sì, però sarebbe anche un po' più complesso, credo, per riadattare il gioco a questa novità. Però mai dare nulla per scontato. I modder fanno miracoli. Vero, vero. Infatti non a caso io ho acquistato le mod a pagamento di Ruff Garage, quella lì del motore. Insieme ai cerchini, eccetera. Perchè ne va le vana fine. Grazie per il follow. Buonasera, grazie per il follow. Benvenuto. Welcome. Luke. Benvenuto. Welcome to the stream and welcome to our channel. Thank you. Grazie. Grazie. Andrea, devi sapere che la mia specialità nei convogli è praticamente colui che chiude la fila. Quindi io mi adatto, mi autoadatto alla distanza sempre in base a, insomma, alla strada. Per cui vai tranquillo e seppure ti dimentichi di dire qual è la velocità da mantenere, non ci sono problemi. Scusami. E questo è il mio Scania. E noi siamo sempre in compagnia del mitico Andrea 80 Biella. Mi raccomando, per chi sta guardando questo video su YouTube o in live, diamo una mano e sosteniamo anche il canale di Andrea. Grazie mille. Grazie mille. A disposizione, Doctor. Quando una persona merita, merita. Avanti tutta. E allora brecco canale KK. in questo momento visto che stiamo guidando a tutta birra non si può dire però si può dire manetta dell'acqua tutta manetta dell'acqua aperta o ma 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 E noi continuiamo con il nostro viaggio. In direzione Mann Island, siamo a circa 580 km, stiamo a 580 km, come si dice a Napoli. Noi continuiamo con il nostro giro. Noi continuiamo con il nostro giro. Rilassati, il soft gaming è solo su Dab Logistica. Rilassati, il soft gaming è solo disponibile su Dab Logistica. Rilassati, il soft gaming è solo su Dab Logistica. Ma adesso il nostro viaggio però deve continuare in maniera soft, rilassata. Da questo momento in poi farò un po' di ASMR, salvo quando dovrò parlare al CP. So, from now, as possible, I will do a kind of ASMR. If I don't talk at the CB radio. Tengo, da go, da go, da go. Dog, da go, da go, da go. ma sto DAF nuovo ti ha un po' deluso guarda dato che ho visto che la potenza del motore era molto simile a quell'altra lì no non mi ha denuso ho capito soltanto che in effetti hanno fatto un restyling estetico hanno aggiunto un po' di elettronica quindi hanno sostituito gli specchi retrovisori con due monitor e quindi una cosa buona è stata fatta su questo nuovo mezzo è quella di aver fatto aumentare la visuale davanti e poi non solo quello ma anche l'angolo morto del parabrizza è stata spostata molto più indietro rispetto alla posizione standard un po' come la posizione quella lì dei parabrizza degli autobus turistici per il resto nulla di particolare insomma lo hanno reso accattivante il motore resta comunque un ottimo 530 cavalli se non erro però insomma mi è piaciuto ma nulla di che però è stato hanno fatto un bel modello veramente molto molto bello esteticamente e anche con tutta l'elettronica all'interno sì le novità della plancha e del cruscotto con gli specchietti elettronici è veramente notevole la cosa che mi ha deluso un po' è la potenza e la portata di carico del cambio però se utilizzi il cambio giusto riesci ad ottenere un buon risultato infatti pure io ho dovuto adattare il cambio giusto al motore proprio per andare a compensare dove diciamo così il motore non riusciva a rendere al 100% davo una mano al cambio certo sicuramente un palliativo però in questo momento io sto guidando lo Scania con 530 cavalli quindi è come se stessi guidando un altro con l'unica differenza insomma che cambia il brand andiamo avanti andiamo avanti e porto un trenrot un trenrot un trenrot tra viaggi e l'unica stessi guidando il pazzo e porto un trenrot questa sera l'aria qui a Napoli è veramente molto fresca si sta veramente bene ci sono circa 27-28 gradi tonight the air enables, the air is so fresh, it's at 27, 28 degree the air is so fresh tickle 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 I was talking with Andrea about the new track from DAF I say that the power of the agile is the same of the older one the coolest thing is that they give you the possibility to install camera and displays and not standard mirror, glass mirror it gives you a lot of visual, lateral visual then the dead point of the front glass is a little bit back it gives you a visual like a touristic pass ciao manuel Buonasera, mi hai ritrovato in live E' sempre un grande piacere leggerti E parecchio che non ti vedevo in live Comunque mi fa sempre piacere Immagino che adesso un po' il lavoro, un po' diciamo così Le amicizie E' giusto dedicarsi alla vita reale Tranquillo, non ti preoccupare Prima la vita reale e poi dopo qui Intanto se ti perdi qualcosa Trovi sempre il video registrato Per cui se vuoi dare un'occhiatina così fugace Tranquillamente lo puoi fare Divertiti Poi quando c'è un po' di tempo Passa tranquillamente Caspiterina, li hai fatti a piedi sti 4.000 km Con quale mezzo li hai fatti questi 4.000 km? Io adesso qua mi sono fermato con questo Scania Quindi è aumentato un pochettino Diciamo così la media Ah, rinuove sì Io li ho provati tutti quanti i mezzi Di Eurotrack Dal più blasonato Al meno potente Però Tutti quanti Mi hanno sorpreso Poi ovviamente bisogna Adattarci Il cambio giusto Per andare a convenzare Come dicevo anche prima L'amico Andrea Il cambio giusto per convenzare La carenza di potenza Per Una tipologia di carico Che tu Devi trasportare Infatti Se ci fai caso Quando devi fare un trasporto pesante Ti avvisa Io solitamente Quando sono carichi Non particolarmente pesanti Utilizzo anche il 12 più 2 Come cambio Però poi se devo portare Carichi particolarmente pesanti Allora In certi casi Ho scelto Il 16 rapporti Però Io con il DAF Il 106 Se non ricordo male Ho trasportato Un trasformatore Con il Il cambio Quello da 12 rapporti Standard E' quello che Ha fatto anche Marco Prima di me Infatti Ho preso spunto Dall'esperimento Di Marco E l'ho applicato E quindi Bisogna riuscire A A compensare Con il cambio Tu quale Reno Stai utilizzando Il Reno T E' quello che ha fatto Quello Esteticamente E' fatto bene Poi Una cosa che ho detto Anche Sì sì Ho capito Quale dici E quando feci il test Del Reno T Quando usci Il Reno Evolution Quello là E usci Insieme alla Mappa Iberia Notai una cosa Che è molto robusto Che è molto robusto Un fatto di Carrozzeria Poi E' anche molto stabile E' fatto veramente bene Al di là Del lato estetico Se uno Si accontenta Della potenza Del mezzo E riesce a trovare Il rapporto Col cambio giusto Ci fa di tutto Infatti Io ci ho fatto Una settimana Con quel Reno E mi sono divertito Così come Mi sono divertito Anche con il Reno Premium E così Sono tutti ben fatti Però io Prima Di sapere Come si poteva Comenzare La Diciamo così La non potenza Del motore Ho dovuto Fare parecchi chilometri Prima di capire Quelle strisce Con i rapporti Che cosa significava Ah Due Ma il voto Dici Sul Volvo 730 La non potenza 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 Ah, come l'ho capito, ecco il 7.30 è bello potente, ma hai fatto il volo in multiplayer o in single player? Eh beh, è normale, vuoi mettere quanti? 500 cavalli, 460 cavalli contro 730, c'è sta una bella differenza, voglio dire, e non è poco. Sicuramente il volo è molto più potente. Miracolo, dopo San Gennaro... Infatti è quello che stavo dicendo pure io, ti hanno riconosciuto e hanno strombazzato. Beh, sì, ma in generale i camion sono abbastanza complicati da guidare. Non avendone provato uno nella vita reale non saprei, diciamo dire, se sono bravo oppure no. Però, una cosa è certa che se riesci a capire come riesci a sterzare nei punti più stretti, girando la visuale ti rendi conto che quello che vedi normalmente frontalmente non riesci a vederlo. Quando giri la visuale è tutta un'altra cosa. Sì, sono con Andrea80Biella che mi ha raggiunto dunque una mezz'oretta fa abbondante sul server qua. Stiamo andando a fare l'ultima consegna qua, siamo quasi arrivati. Poi vado a riposare pure io, termino la live qua. Io sì, una volta arrivato a destinazione poi chiudo la live e vado a riposare. Andrea non lo so se continua la live. Andrea, mi chiedono qui in live, c'è l'amico Manuel che mi chiede se tu dopo questo carico continui la live. Perché io poi dopo ho scaricato concludo la live. Se lo dici al cb così lui eventualmente se continui lui può seguirti. No, io mi fermo questa sera. Per questa sera è tutto. Ok, grazie per aver risposto. E Manuel è come me, insomma, anche io mi fermo qui. Approfitto che l'aria è fresca stasera così, sperando di riuscire a dormire un po' meno studente. Vai via Manuel, buonanotte allora e soprattutto grazie per essere passato in live. Lo sai, mi fa sempre piacere quando mi passi a salutare. Quindi divertiti, goditi la vita e quando c'è un po' di tempo puoi passare tranquillamente qua nel canale. Tanto il programma l'ho già preparato. Quindi solitamente il venerdì è l'unica serata che faccio un po' più tardi. Andrea, dopo se ti fermi un attimo. Così faccio la foto che metterò come foto di copertina su questa live qua. E la pubblicherò anche su Twitch qua, su Instagram. E poi mi trovo io il tuo account e ti taggo se ti fa piacere. Ok, ci troviamo al garage. Possiamo farla anche lì dove scarichiamo senza problemi. Tanto io in realtà una foto l'ho fatta già all'azienda di partenza. Quindi la possiamo fare pure lì dove stiamo tranquillamente. Tanto è una cosa così molto soft. Sì. 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 Ma io credevo che tu non avessi ancora scaricato. altrimenti sarei venuto io lì al garage. Sì. 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 Adesso preparo lo scatto e poi quando ho finito ti avviso. Sì. 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 Fatto Andrea. Perfetto. Grazie per essere passato in live. Ora faccio un po' i saluti finali qui e poi chiudo la live. Ti ringrazio alla prossima. Buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte. E qui come sempre è giunto alla fine anche questo viaggio. Questa sera sono stato in compagnia dell'amico Andrea. Il suo canale Andrea 80 Biella. Mi raccomando, followatelo. So, thank you for following. The trip is finished. Many thanks for following. Please follow my friend Andrea 80 Biella channel. Thank you. Grazie a tutti e stato buono. Why you? Alla prossima. Ciao. Ciao. A posto Andrea. Io chiudo. Grazie ancora per aver partecipato alla live. È stato un onore averti con me. Ciao. Buona serata. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.